Questo è il video dimostrativo sulla sostituzione della capsula del sistema di mescita Coravin. Premi la leva e ascolta l'eventuale sibilo per verificare che nel sistema Coravin sia presente argon. Se non senti alcun suono quando spingi la leva, è possibile che nel sistema Coravin il gas sia esaurito. È necessario sostituire la capsula. Fai scorrere la morsa verso l'alto per accedere facilmente al copricapsula nero contenente la capsula. Svita il copricapsula nero rimuovendolo dall'unità. Se senti fuoriuscire l'argon mentre sbiti il copricapsula, è possibile che l'ago sia ostruito. Per ulteriore assistenza, fai riferimento alla sezione rimozione di residui dal lago. Rimuovi la capsula vuota e posiziona la nuova capsula Coravin nel copricapsula. Riavvita il copricapsula sull'unità in modo rapido e serrato. Stringi ancora di mezzo giro. Fai scorrere la morsa verso il basso finché non scatta in posizione e premi la leva per rilasciare un breve getto di gas per testare il sistema Coravin. Il sistema di mescita Coravin è ora pronto per l'uso. Per altri suggerimenti di manutenzione o risoluzione dei problemi, contatta il servizio clienti.